Ehi gente, io sono Quote e questo è il mio tentativo di finire Pokémon X in Arcor Nazloc usando solamente Pokémon di tipo Folletto. Le regole per questa challenge sono le solite, ma in breve posso catturare solo il primo Pokémon di tipo Folletto di ogni area o percorso, se un Pokémon va KO è perso per sempre, ogni Pokémon va soprannominato, non posso usare oggetti, non posso livellare oltre il livello del prossimo capopalestra, devo giocare con lo schema di battaglia fisso, non posso usare mega evoluzioni e non posso utilizzare mosse di setup. Forse sto portando un po' troppo spesso X e Y sul canale, ma questi sono senza ombra di dubbio i giochi migliori per fare sfide del genere, soprattutto le monotype per via di tantissimi diversi incontri che sono disponibili e quindi, specie per quanto riguarda typing strani e poco rappresentati, è molto facile che la scelta ricada su questi giochi. Comunque fare questa challenge qui ha il suo perché, essendo la generazione in cui sono stati introdotti, qua i folletti non erano in tanti, anzi erano molto pochi. Questi sono gli incontri disponibili e considerando che vari di essi si trovano nelle stesse aree, il totale di Pokémon che potremo avere è 9. Guardandoli così, qua in mezzo ci sono sicuramente degli elementi forti, ma la maggior parte è assolutamente average e nel late game potrebbero esserci delle difficoltà. Per quanto riguarda invece il tipo folletto in sé, è broken. Fine dell'analisi, non c'è molto altro da dire. È forte sia offensivamente, perché sono davvero pochi i tipi che gli resistono, sia difensivamente. È debole solamente a veleno e acciaio, che sono due tipi veramente rari. Cioè, le mosse acciaio sono rarissime. Le mosse veleno un po' meno, giusto perché poco a un veleno sono tanti, ma appunto ce le hanno soprattutto loro. Non è un tipo di mossa che tendenzialmente imparano altri Pokémon, se non per MT. Le mosse veleno erano un po' inutili, diciamo la verità. Colpivano solamente l'erba, che era già debole a tanti altri tipi, quindi non è che mettevi la coverage veleno solo per i Pokémon erba. L'introduzione dei folletti invece ha risollevato abbastanza il tipo veleno. E infatti ho trovato vari allenatori random con mosse di questo tipo messe apposta, che onestamente non mi aspettavo e ho sottovalutato. E in generale, regà, tutta questa challenge l'ho abbastanza sottovalutata, perché più una roba penso sia facile, meno ci presto attenzione. Quindi ho questa sorta di autobilanciamento, dove quando la sfida è difficile traiardo come un malato e quando invece è più semplice tendo a tirare dritto. Ok, perfetto. Iniziamo a giocare e per prima cosa scegliamo lo starter. Nessuno di loro è di tipo folletto e tra le tre deludenti scelte prendo Chespin. Chespin che ci abbandonerà a brevissimo perché nel percorso 3 c'è la prima cattura disponibile, ovvero un Azuril. Ho usato di recente questo Pokémon e l'ultima volta l'avevo beccato con l'abilità peggiore. Vediamo se a sto giro andrà meglio. No. A quanto pare no. L'ho chiamato Spawni e anche per quanto riguarda la natura non sono proprio contento. Meno difesa, più difesa speciale. Insomma. Azuril comunque si evolve per felicità e perciò posso già farlo diventare un Merrill correndo a spam ed effettivamente è quello che ho fatto. Ma nel mentre che c'ero mi ero messo pure a livellarlo con i Selvatici fino a quando però non sono incappato per sbaglio in un allenatore con un terrificante biduff al livello 6 contro il quale non ho potuto nulla e che mi ha disintegrato il mio povero Spawni. No comment. Diciamo che l'ho fatto apposta perché volevo un Azuril con un'altra abilità. Dai. Ma tanto il gioco mi sfuta in faccia perché al secondo tentativo mi fa trovare un altro Azuril con grasso spesso e la natura è anche stavolta abbastanza discutibile. Ora non ho trollato e ho subito evoluto Spawni stando attento a non farlo morire e così ho un Merrill. Non ci sono altri incontri disponibili prima della palestra quindi tocca andare a sfidare Violetta. Non prima però di essermi vendicato sul biduff assassino di prima. Era fondamentale farlo. Adesso. Sarà in grado Spawni da solo di superare la sfida e vincere la prima medaglia? La risposta è sì e anche abbastanza facilmente perché a livello 10 ha imparato il rotolamento che come sapete aumenta di potenza ad ogni turno ed è super efficace sui suoi pokemon coleottero. Surskit è andato giù in due colpi e Viviglion poraccio si è trovato davanti una 120 roccia super efficace per 4 GG. Questa era proprio autowin. Possiamo procedere e attraversare il percorso 4. Qua c'è un'altra cattura che possiamo fare e a dire la verità si possono fare un po' di magheggi. Qui si possono trovare sia Flabebe che Ralts anche se quest'ultimo è molto più raro ed è anche l'unica zona del gioco in cui è presente. Flabebe al contrario è disponibile anche nel percorso 7 ma pure qui non è da solo perché in questo percorso c'è anche Swirlix ed è anche per lui l'unica area in cui si può trovare. In pratica di questi tre pokemon posso averne solo due e se uno volesse tryhardare considerando che Ralts è sicuramente l'encounter migliore perché Gardevoir è fortissimo quello che si dovrebbe fare è schippare la cattura del percorso 4, andare a fare quella del percorso 7 che è molto probabile sia un Flabebe e poi tornare di qua per prendere di sicuro Ralts grazie alla Species Gloss. Poi oh se nel percorso 7 esce Swirlix pace però questo è il modo per aumentarsi enormemente le chance di accaparrarsi un Ralts. Io però dopo averci pensato un po' ho deciso di fregarmene. Gardevoir è un pokemon che ho avuto un botto di volte e lo conosco benissimo invece gli altri due chi li ha mai usati e perciò volevo proprio loro pure se sulla carta sono più scarsi ero curioso di usarli. Inizio a frugare nei fiori rossi allora ma il primo pokemon folletto che trovo sì è Flabebe ma quello bianco cioè la prima cosa che ho trovato non è stata né il Flabebe rosso al 30% né il Ralts al 5 né il Flabebe arancione al 4 ma lui cioè what the fuck come è possibile? L'ho chiamata Olivia e ha pure una natura molto carina. L'abilità no invece è useless ma tanto può avere solo quella. Ora c'è tanta strada da fare prima di arrivare da Lino e una delle tappe che ci aspetta è il laboratorio del professor Platan a Luminopoli dove lui in persona ci sfida utilizzando i tre starter di canto. Qui io non volevo mandare spawni davanti a un Bulbasaur e quindi Lido con Olivia inizia ad usare azione. Lui purtroppo fa parassi seme. Decido di rimanere un altro turno ma il danno di azione è davvero basso e poi vengo pure crittato da frustrata. Capendo che non stavo andando da nessuna parte switcho dentro con spawni che regge frustrata meglio di quel che pensavo. Vado di colpo coda e lui ancora parassi seme. Sono costretto a ricambiare ma non mi piace come si sta evolvendo la situazione. Nonostante il meno uno in difesa azione toglie ancora troppo poco e lui invece niente. Ci tiene proprio ad inseminarmi. Wink wink. Ogni parassi seme è uno switch che sono costretto a fare e stavolta entro su un brutto colpo di azione. Vabbè GG Platan non so se ho grifato io o se non era proprio vincibile ma alla fine mi sono fatto sweepare da un Bulbasaur. Eeeh va così. Terzo tentativo ricatturo spawni e yes finalmente macro forza. Questa abilità trasforma sul serio un pokemon che normalmente è trash in un ottimo pokemon. E anche la natura è apprezzabile perché a zoomare già di base è un po' lento quindi sacrificare ancora di più la sua velocità per avere più difesa c'è sto. Con macro forza le cose dovrebbero essere più semplici ma stavolta ho fatto anche una roba che prima non avevo fatto. Ho evoluto spawni esattamente a livello 10 in modo tale da far riapprendere fascino mentre è ancora una zuril e rotolamento con l'evoluzione. Nello scorso try l'avevo evoluto prima e mi ero perso fascino. Violetta chiaramente non costituisce la benché minima minaccia per il mio topo acquatico rotolante e quindi passiamo direttamente al percorso 4 dove ricatturo olivia. Stavolta è un flabebe rosso. E vabbè è ovvio è il più comune. Prima si erano allineati i pianeti per far uscire quello bianco ma tanto il colore non cambia niente è solamente una roba estetica. La sua natura invece busta la sua miglior statistica quindi ottimo. Rimatch contro platan che prima avevo decisamente sottovalutato. Decido di liddare con spawni perché voglio subito sfruttare fascino dato che sia frustata che azione sono mosse fisiche e poi uso colpo coda. Cambio e mando olivia e comincio ad usare azione. Visti i danni che mi aveva fatto potevo pure restare con spawni me ne sono accorto ora. Metto addirittura fortune kanto qua che è una mossa che protegge l'intera mia squadra dei brutti colpi per 5 turni proprio avevo il ptsd dalla battaglia di prima e con un'altra serie di azioni sconfiggo finalmente bulbasaur. Adesso restano gli altri due starter quelli inferiori ma non possono fare nulla spawni che ha cominciato a rotolare e li ha shottati uno alla volta. Non so se effettivamente la mia strategia era vincente in questo caso oppure tutto è dipeso dal fatto che bulbasaur si è rifiutato di usare parastiseme a sto giro ma non facciamoci troppi problemi e andiamo avanti. Siamo arrivati al famoso percorso 7 di cui parlavo prima e dato che qui ho già catturato un flabebè ho l'encounter garantito con squirlix che è veramente carino secondo me cioè guardatelo un cagnolino di zucchero filato peccato che poi feggiori un po' con l'evoluzione. L'ho preso e l'ho chiamato un mallow bellissima natura mi piace un sacco soprattutto perché gli altri due hanno la velocità abbassata quindi avere un pokemon che invece è veloce mi fa molto piacere e l'abilità gli impedisce di venire addormentato. Meglio di niente. Normalmente squirlix si evolverebbe per scambio tenendo una dolce spuma ma come al solito mi concedo questo tipo di evoluzioni e ho stabilito che potrò evolverlo quando troverò per l'appunto l'oggetto che gli serve. E parlando di evoluzioni gli altri due sono già arrivati al livello giusto per farlo e quindi ho una zoomarill che macro forza parte è un buon pokemon da avere così presto nel gioco poi con macro forza diventa broken e fluette che già da ora ha un valore di difesa speciale fuori dal comune poi con l'ultima evoluzione diventerà penso il tank speciale migliore del gioco. C'è un ultimo pokemon da catturare prima di andare alla seconda palestra e si trova qua nella grotta dei bagliori. È rarissimo e quindi ci ho messo una vita ma alla fine ho trovato il mio mawile l'ho catturata è una femmine l'ho chiamata ombretta. Natura neutra per lei e prepotenza. Nemmeno serve che io dica quanto sia forte e stabilità vorrei più che altro parlare del typing acciaio folletto fortissimo debole solamente a fuoco e terra ma soprattutto immune al veleno e quindi copre questa debolezza che invece hanno tutti gli altri membri del team. Tempo di affrontare la palestra adesso. Il team di lino non costituisce la minima difficoltà per spawni che con idrondata può fare secchi facilmente sia a Maura che Tyrant ma prima di arrivare da lui è successo un imprevisto. Mentre stavo correndo senza guardare per la palestra incappo per sbaglio in un'allenatrice opzionale che ha un Solrock e un Lunaton. Due pokemon parecchio forti per questo punto del gioco. Io mi ricordavo di lei e so che usa Psiconda che è una mossa pericolosissima ad inizio gioco perché fa un danno variabile che non solo ignora i valori di difesa del pokemon avversario ma ignora anche eventuali resistenze di typing. In pratica fa danno neutro. Io al primo posto avevo Mallow che chiaramente non può fare nulla e qui ho provato a mandare Olivia perché con lei ho foglia magica ma direi che non è stata la mossa giusta. Niente. Non volevo mandare spawni perché sennò mi over livella ma se non voglio perdere un pokemon è l'unica. Con idrondata shotto sia Solrock che Lunaton. Quanto è broken macro forza. ma così facendo salgo al 26 e quindi mi tocca depositarlo. Vabbè tutto questo per dire che mi sono privato del modo più semplice di vincere contro Lino ma pure se ho fatto del mio meglio per autosabotarmi devo dire che la battaglia non è stato ugualmente un problema. Starto con Ombretta che resiste tutte le mosse di Amaura. Lui mi paralizza ma io ho dato una bacca liegia. Con Spaccaroccia faccio un sacco di danni. Al turno seguente usa un debolissimo raggio Aurora e con un altro colpo lo butto giù. Pure contro Tyrant sono abbastanza al sicuro e poi mi bastava droppargli la difesa con Spaccaroccia una singola volta. Ha il 50% di probabilità che accada. Non mi sembra di chiedere molto e invece non è mai successo. Molto triste. Però se vogliamo essere obiettivi diciamo che pure lui non mi ha mai tentennato con Morso quindi famo che ce sta. Qua prevedendo la sua pozione uso false lacrime droppandogli la difesa speciale e ora mi basta entrare con Mallow e usare vento di fata per spazzare via il draghetto in un colpo solo e vincere così la seconda medaglia. Ora ci sono un bel po' di catture da fare e anche un'evoluzione perché in una casa mi viene data la dolce spuma e quindi posso usarla per far diventare Mallow uno slurpuff. Potevo farlo pure prima della palestra ad essere onesti ma non ci avevo fatto caso. Poi nel percorso sopra ad Altoripoli è possibile trovare sia Snubbull che Eevee però mi sono rifiutato di prendere Eevee. Me lo sono proprio bannato e questo perché per farlo diventare un Sylveon bisogna fargli crescere l'affetto coccolandolo, spazzolandolo, dandogli da mangiare e non volevo davvero stare lì a smanettare col po' che io e te. Soprattutto perché poi il Pokémon inizia a fare cose cringe come resistere ad un PS, curarsi da solo dagli status e cose di questo tipo. No, assolutamente no. Prendo Snubbull invece. Il bellissimo Pokémon Fata. E il livello mi permette già di evolverlo in un Grambull. È una femmina e l'ho chiamata Struzzi. La natura compio attacco è molto interessante, l'abilità poteva essere prepotenza invece, quindi RIP. Adesso sono arrivato davanti alla Grotta dei Riflessi e qui ci sono altre catture. La prima è all'esterno, sul percorso 11, dove trovo il Picaclone di sesta gen Dedenne. L'ho chiamata Squitty. I Pokémon elettro sono sempre incredibilmente utili per via della loro velocità e dell'attacco speciale. Squitty poi ha anche natura neutra che va benissimo. Poi c'è un'ulteriore cattura all'interno della Grotta. Solo che raga, sto posto è una trappola. Tocca sta attenti, questo è uno dei punti più problematici quando si fa una Nazlock su questi giochi. XY sono facili? Sure. Non la Grotta dei Riflessi. È piena di allenatori con Pokémon davvero forti per questo punto del gioco. Ci sono dei Soak, degli Aulucha, Grumble, Absol, tutta roba non banale. Fortunatamente la maggior parte di loro sono opzionali, ma appunto bisogna fare attenzione a non incapparci per sbaglio. Ma i tre bocchetti di questo posto, a quanto pare, non sono finiti. Perché io inizio a cercare il mio Pokémon e prima ancora di trovare sia Karbin che Mr. Mime, trovo lui. Ecco, disastro. Io non lo sapevo, raga. Nelle scorse challenge che ho fatto qua ci ero sempre passato col Repellente perché non avevo catture da fare. Non avevo idea che in questa grotta ci fossero i Wobbuffet. Chiaramente non posso fuggire perché sto bastardo ha pedi in ombra e io come primo Pokémon in squadra avevo Struzzi. Mi tocca ammazzarlo, ma se sapete come funziona Wobbuffet saprete pure che attaccare sto coso è rischiosissimo. Qui ho iniziato ad usare Fascino appunto perché mi cagavo sotto, ma non c'è veramente un senso nel farlo. Non posso di certo stallargli tutti i PP. Ne ha troppi. Ho Morso che è super efficace su di lui, ma non basta mai per buttarlo giù e quindi ad un certo punto mi decido fargli un dannettino di leccata e Wobbuffet selvatico usa Contraattacco. E te pareva? Adesso penso sia inutile ragionare, non c'è nulla che posso fa. A una certa devo attaccarlo ed è un Terno all'otto. Uso Morso sperando che sia abbastanza, ma non lo è. E questo usa di nuovo Contraattacco. No dai, ma che sto a vedere? Io qua ero tiltatissimo regà, ve lo giuro. Ero proprio Gigamed. Ma che sfido ho avuto. Io ancora non ci credo. Se non altro tra tutti e sei era forse il membro del team che mi piaceva meno, però dai non me l'hanno manco fatto usare. F. Primo morto della run, da un Pokémon selvatico. Ora quel che è peggio è che non posso fare la mia cattura perché metti che trovo un altro Wobbuffet che fo, nessun mio Pokémon è in grado di gestirlo e quindi niente, ho messo momentaneamente in standby la cattura in questo luogo e ci ritornerò più avanti solo quando avrò trovato un modo per gestire quel figlio di troppo. Passiamo a qualcosa di facile, la terza palestra. Ornella si può pure schippare volendo, che tocca di usa Pokémon lotta. Ma non solo poi usa Pokémon lotta, usa Pokémon lotta che hanno quasi solo mosse lotta. Cioè è proprio impossibile fare male. Anche il più innocuo vento di fata fa dei danni esagerati sul suo team e pure il suo ace, Aulucha, cioè capite? Questo era un crit. Contro di lui ho usato prima false lacrime e in questo modo un singolo assorbibacio è bastato per esploderlo. Easy terza medaglia. Ornella ci ha regalato surf e con questa possiamo oltrepassare il fiume che ci separa dalla parte di Kalos, Montana. Era un po' triste all'idea di dover insegnare una mossa speciale a Spawni, ma poi ho scoperto che anche Mallow la impara. Beh, mi pare giusto. Perché un profiterol non dovrebbe poter surfare sull'acqua? Mi sembra evidente. Da qui raggiungiamo uno dei posti secondo me più carini del gioco, la fattoria degli Skiddo. Che figata che puoi cavalcarli. Lo so che anche in giochi successivi puoi cavalcare un sacco di Pokémon, ma volete mette? Skiddo è dieci volte meglio. È troppo carino e poi guardate cosa sa fare. Avete visto? Io sta gente non l'ho affrontata. Questi allenatori non li ho ancora battuti, ma se ci passi davanti mentre si ingroppa a Skiddo non ti affrontano. Ma è incredibile questa cosa. I Pokémon del Poképassaggio di Allola sono capaci di farlo? Eh? Il Persian e il Rapidash di Let's Go lo sanno fare? A me non sembra. Skiddo troppo superiore. Mi dispiace. E poi grazie a lui sono pure riuscito a superare degli ostacoli per arrivare a prendere una Pietra a Briglio che mi serve per evolvere Olivia. No dai, Skiddo è proprio il GOAT di sto gioco. Capito raga? È il GOAT del gioco. E volvo Olivia che è diventata un Florge. Pokémon veramente forte con una difesa speciale immensa e anche un ottimo attacco speciale che da un Pokémon di supporto tra virgolette come questo non mi aspettavo. È il momento di affrontare Amur e i suoi tipi erba. Anche questa battaglia è molto facile. Lui lidda con Jumpluff e io con Ombretta. Mi outspeedda e mi mette i semi addosso ma io poi tiro Rocciotomba e l'ho critto. Lo lascio al rosso ma grazie alla vita che ha recuperato con parassi seme esce dal range dell'iperpozione e perciò mi tanco un'acrobazia al turno seguente e poi procedo a farlo fuori. Entra GOGOT e lui ha battiterra quindi meglio non rischiare. Cambio in mallo. Prendo pochi danni da riduttore e poi vado di false lacrime per abbassare la difesa speciale nel mentre che lui invece con battiterra mi abbassa la velocità. Mi riprendo qualche ps con la baccacedro e ora iniziamo a colpirci a vicenda. Lui con riduttore e io con assorbibacio. La vita che recupero ogni volta mi permette di stare sempre fuori dal range di crit e con due colpi lo sconfiggo. Whipping Bell ha solamente mosse veleno e laccio erboso quindi torno con Ombretta che lo countera completamente. Sparo Rocciotomba e pure qua di nuovo l'ho critta. Cattivissima Ombretta sta battaglia. Ora purtroppo io manderò sempre Whipping Bell al rosso quindi Amor ci butterà sopra tutte le sue iperpozioni. Mi farà sprecare un sacco di tempo ma dato che il danno di Lacher Boss è ridicolo alla fine riesco a mandarlo KO e così si vince pure la quarta medaglia. Una sfida invece che è leggermente più difficile è quella contro Lem, il quinto capopalestra che ci tocca subito affrontare. Gli unici miei pokemon che imparano mosse terra sono Spawni con battiterra ma Spawni è meglio che non vede proprio il campo di battaglia a sto giro e Squitty a cui ho insegnato Fossa. Squitty è anche l'unico mio pokemon che si tanca fulmine quindi questa battaglia è tutta su di lei. Parte la sfida con Lem ed è subito scontro tra Pika Cloni. Quinta gen contro sesta gen. Chi è il Pikachu migliore? Vabbè in realtà è palesemente molga esteticamente almeno però in questo caso devo fare il tipo per quello che mi piace meno. Inizio con Carica Parabola che è praticamente assorbibacio di tipo elettro mentre lui usa aeroassalto e attacco rapido. Come vedete non ci fa nulla. Al secondo turno lo mando al rosso. Qui chiaramente lo cura. Io continuo a spammare Carica Parabola tanto non ho nulla da temere e lo riporto al rosso. Stavolta però Emolga decide di andarsene con Invertivolt e al suo posto entra Magneton. Come dicevo prima per lui ho insegnato Fossa. Nel turno in cui sono sottoterra lui evoca il campo elettrico e ora gli faccio un enorme quantitativo di danni. Non sarei riuscito a buttarlo giù a prescindere perché ha vigore e quindi sto fulmine me lo devo beccar per forza. E devo dire che con sto cavolo di campo elettrico fa molto più male di quel che pensavo. Per fortuna che aveva una bacca cedro e che Squitty ha guance gonfie che ha un'abilità fighissima. Ogni volta che lei mangia qualsiasi bacca recupera anche un ulteriore terzo della sua vita massima e quindi sono praticamente tornato a full vita. L'Emme usa la sua seconda iperpozione e nel mentre gli spacco il vigore con carica parabola che però ha fatto meno danni di quel che pensavo e temo che ora Fossa non basti. I miei sospetti purtroppo erano giusti. Magneton resiste per pochissimo e questo mi costerà un altro fulmine in faccia però adesso posso finirlo una volta per tutte e il campo è svanito. Uso Fossa pure contro Eliolisk perché tanto ero sicuro di resistere anche ad un eventuale crit di fulmine soprattutto perché vi ricordo che da questa Jenny in poi tolgono 1.5 per invece che 2 per. Purtroppo Fossa non è un tweet che io e quindi devo cambiare. Io qua ho switchato normalmente ma avevo in Vertivolt me ne ero completamente scordato potevo fargli un po' di danni già che c'ero. Sono entrato con Olivia e qui mi prendo ripetutamente fulmine in testa ma fin tanto che non mi paralizza con la bacca cedro e desiderio riesco a curarmi del tutto e poi con vento di fata molto lentamente lo butto giù. Eh sì non ho mostre migliori al momento tocca accontentarsi di questo. Vento di fata anche su ciò che resta di Emolga e otteniamo così anche la quinta medaglia di Kalos. Con questo possiamo dirigerci al percorso 14 che ci porta a Romantopoli. Qui incontro una streghetta intenta a contemplare uno stagno putrido che mi ha regalato l'MT di Tossina. Oh finalmente questo era quello che mi serviva. Con Tossina posso tornare alla grotta dei riflessi e non temere di incappare in un guoba fette perdere un pokemon per questo. E la cosa assurda è che pure se uova fette un 10 per cento ho trovato di nuovo prima lui rispetto ai folletti. Ah ma stavolta l'ho proprio lasciato annegare lentamente nel veleno. CBA. Alla fine sono riuscito a trovare il mio pokemon eppure se Mr. Mime era l'incontro più comune ho trovato questo invece. Sono contento. Ho chiamato Karbink Corinne e anche qui abbiamo una natura neutra. Poi Karbink è molto strano come pokemon guardate le stats. Non vi aspettate chissà che danni da parte sua però di sicuro a tancare tanca. Poi impara riflesso e schermo luce quindi è sempre utile. Riprendiamo il viaggio e ora tocca a Valerie e i suoi... folletti. Ma chi se crede di esse? Lei parte con Mawile e io con Spawny dato che sono totalmente al sicuro dal momento che Mawile non ha mosso e folletto né acciaio. Eh te capisco pure il mio lo sta imparando un cavolo. Anch'io su Mawile ho solo sgranocchio e perciò con due battiterra la faccio fuori. Il suo secondo è Mr. Mime che usa subito schermo luce. Ok qua invece non capisco. Immagino che per la cpu a zoomariz è un pokemon speciale e ora avendogli calato la velocità con battiterra al secondo turno lo off speedo e lo killo con idron data. Resta solo Sylveon anche qui vincerei facile ma lui mi precede e mi fa fascino nerfandomi di brutto l'attacco. Devo cambiare se no qua non affittamo mai. Metto giusto un battiterra per rallentarlo e poi me ne vado per entrare con Olivia che regge benissimo i suoi magi brillio. Ho usato vento di fata un paio di volte ma ora sono arrivato al punto in cui se continuo la faccio curare e non c'avevo voglia. Lancio un desiderio e poi torno con Spawny. Non penso qua di aver rischiato il crit. Ho fatto i conti, avrei retto con pochissimo. E ora idron data e giù Sylveon. E questa era la sesta medaglia. Da adesso in poi il gioco ha iniziato a complicarsi. Gli allenatori hanno pokemon più forti e ci saranno battaglie un po' più pericolose di quelle avvenute finora. Ho anche una nuova cattura da fare sul percorso 15. Un klevski. Al momento non ho posto in squadra e quindi l'ho lasciato nel box. Lo metterò in squadra più avanti e quindi ne parliamo dopo. C'è molta strada da fare prima di arrivare a Fluxopoli e uno dei posti per cui bisogna passare è la caverna gelata. Pure questo luogo, come la grotta dei riflessi, è un'altra trappola. È pieno di allenatori da non sottovalutare e molto spesso nemmeno fai in tempo ad evitarli perché te li trovi dall'altra parte di una lastra di ghiaccio, come appunto accaduto con questa tizia qui. Io sarò onesto, procedevo abbastanza velocemente perché so che la maggior parte di loro usa poco mollotta e che quindi sono nettamente avvantaggiato su di loro. Questo qua però mi tira fuori vele in puntura. E mi ha pure avvelenato. Qua Olivia ha proprio visto la morte a un centimetro dalla faccia. Per miracolo è andata bene e si è salvata. Però era per farvi capire di come anche questi allenatori random costituiscano un pericolo e che questo è anche un esempio di una di quelle coverage veleno di cui parlavo ad inizio video. Hanno veramente iniziato a dare ste mosse a un sacco di Pokémon, probabilmente proprio per fronteggiare i folletti. Nonostante qualche scivolone sono arrivato in città, ma prima di affrontare Astra c'è da fare una battaglia contro Serena. Ho evitato di parlare di tutte le sue precedenti battaglie perché tanto erano solo Spawny che usa idrondata tre volte e sciotta ogni suo Pokémon. Qua invece il suo Delphox è diventato veramente pericoloso con delle mosse davvero forti e poi c'è anche un Jolteon di mezzo. Non posso quindi liddare di Spawny perché poi attirerei Jolteon e dovrei cambiare, prendendomi in faccia scarica, e poi quando entrerebbe Delfox dovrei cambiare ancora eppure con lui non è che mi tankerei così bene le sue mosse. Decido quindi di iniziare con Ombretta. Miaustic mi fa perdere tempo con Bruciapelo e poi inizia a colpirmi con Palla Ombra che devo dire fa parecchio male. La difesa speciale di Mawile è abbastanza discutibile, ma era l'unico mio Pokémon in grado di reggersi psichico stabbato che avrebbe fatto anche peggio su tutti gli altri. In ogni caso, con due sgranocchi sono riuscito a mandarlo KO e ora entra subito Delfox in campo. Qua la cosa logica da pensare è che lui faccia lanciafiamme e quindi ho cambiato per mettere Spawny, ma invece usa Psichico e mi droppa pure la difesa speciale. Non ho pensato che Ombretta con 50 PS sarebbe morta da un qualsiasi suo attacco e quindi ne ha usato uno a caso ed è andata male. Questo è tragico, non voglio perdere Spawny e perciò mando Olivia. È solo che i danni che emette Delfox sono davvero troppo alti e dopo due colpi me ne devo andare pure con lei. Ho lanciato un desiderio, ma qui l'unico Pokémon con cui posso entrare abbastanza tranquillamente è Corinne e tranquillamente è un parolone. Torno a full vita, ma Delfox mi fa praticamente metà PS e io con forza antica niente. Un altro attacco qui mi ammazza e la cosa triste è che essendo più veloce di tutti poi con chi cambio cambio due colpi me li prendo e quindi ammazzerebbe chiunque. Non c'è proprio speranza di uscirne illesi e decido di mandare al patibolo Ombretta che quindi ci lascia in questa battaglia. L'unico Pokémon più rapido che ho adesso è Squitty e usando Fossa due volte lo dovrei killare nel mentre mi prendo un lanciafiamme che... madonna... pure quasi grittava era un bel rip. Penso pure che io ho attivato aiuto fuoco, forse quello. Alla fine è andato tutto bene e finalmente l'ho ucciso. I restanti suoi Pokémon vengono gestiti bene da Squitty. Absol muore da carineria più carica parabola mentre Jolteon non mi fa molto con scarica e pure lui con Fossa ce lo portiamo a casa. Poteva andare meglio ma pure molto peggio. A posto così. Si è liberato un posto di squadra e prendo il clef che avevo catturato prima. L'ho chiamato Tinto. Stessa tipologia di Mawile quindi sostituzione perfetta proprio ed è anche un Pokémon con stats migliori. Il problema qui è la natura che stavolta è inguardabile ma in questa run a parte lui mi è andata stranamente bene con le nature quindi non mi posso lamentare. Andiamo da Astra adesso. Battaglia abbastanza semplice fin tanto che non do modo agli avversari di stappare calmamente in tranquillità. Lei inizia con Sigilith e io con Squitty. Uso Fulmine e per un pelo quel coso non muore e mi risponde con Psichico. Come ormai saprete però questo non è bad perché significa che continuando a cliccare Fulmine faccio sprecare ad Astra tutte le sue perpozioni su Sigilith inutilmente e con un quarto attacco lo mando KO. Entra Slowking dopo. Fulmine non basterebbe perciò me ne vado con Invertivolt facendogli gravi danni e qui mando Mallow per via della sua abilità. Anche qui Psichico fa parecchio male ma usando assorbi bacio esco sicuramente dal range di brutto colpo. Lei poi qua fa un bel fail usando sbadiglio su un Pokemon che ne è immune quindi di lusso proprio. Ora devo ammettere che qua ci ho provato ad orientarla perché rimane Miaustic e non so perché ma sono rimasto dentro con Mallow per prendermi questo rischiosissimo Psichico in testa. Da maniaci sta cosa eh. Se non altro ora ha la difesa speciale droppata. Qua bastava semplicemente mettere Olivia e infatti è quello che faccio ora perché Miaustic mi fa letteralmente il solletico. Poi guardate qua. Crit. Fortuna che l'ha fatto adesso e non prima. E Olivia l'ha ricritta back. Giustissimo così. Settima medaglia conquistata. Adesso è il momento del Team Flare Story Arc dove dobbiamo affrontare Elisio tre volte. Le prime battaglie in realtà non sono difficili perché fintanto che Gyaridos non Mega Evolve è debole 4x all'Elettro quindi mi è bastato sconfiggere il suo primo Pokemon con Squitty per poi attirarlo in campo dato che a terremoto e farlo fuori immediatamente dato che lo spido. Le recluter random del laboratorio sono state quasi più fastidiose di lui dato che spammano Pokemon come Swalot, Golbat e Toxicroc e quindi ogni volta ho dovuto switchare in tinto che è stata la mia salvezza per non prendere mosse veleno in faccia. Bisogna anche risconfiggere tutte le scienziate del Team Flare una seconda volta e l'ultima che ho affrontato è stata Martinia che ha un Aundum e un Weavile. Io mando Squitty perché con fulmine pensavo di shottarlo invece resiste e mi spara fango bomba che mi avvelena e mi ammazza. Allora qua ci sono un po' di cose da dire. Sì Squitty l'ho mandata in campo che non era full vita. Ammetto che tutte ste reclute del Team Flare le stavo abbastanza speedrannando e spesso manco controllavo i set che avevano perché non mi hanno mai dato problemi. Ma questa tipa qui ve lo giuro l'avevo controllata. È solo che se andate a vedere nella wiki italiana quello che c'è scritto trovate questo. Urlo rabbia lancia fiamme di vieto ripicca. Dov'è fango bomba? No io mi sento scammato tantissimo. Ma aspettate volete ride? Io qua avevo capito che c'era un errore e quindi ho aperto la wiki inglese per verificare Bulbapidia e quello che mi si apre è una pagina che mi dice che il sito è in manutenzione e non posso entrarci. Dai ma cos'è? Cioè capite? Anche se per puro culo io avessi voluto controllare su Bulbapidia non potevo. Cioè si sono allineati gli astri per far accadere una roba del genere. Io non potevo in alcun modo essere a conoscenza del fatto che questo Aundum avesse fango bomba. Mi andate tutti a segnalare pokemon central wiki grazie? Quei griefer maledetti. Questo era proprio l'inganno finale. Eh vabbè mi dispiace per squitti veramente tanto ma a quanto pare era scritto che ci doveva morire. E mi dispiace anche perché improvvisamente la battaglia con Isio è diventata più difficile. La seconda in realtà no perché ho usato la stessa tattica di prima solo che Mo invece che squitti c'è Mallow. Faccio fuori Mien Shao con Assorbivacio eppure stavolta Geridos è attirato in campo. Non per terremoto in questo caso ma perché ha metà testata. E anche qui fulmine basta per shottarlo. Ok che non è stabato adesso ma è comunque fulmine su un Geridos. E poi c'è da dire che ho dato la calamita a Mallow per essere proprio sicuro. Nella terza battaglia invece Geridos mega evolve ed Elisio lo manda sempre per ultimo quindi devo trovare un'altra soluzione. Poi sì a metà testata che col suo attacco spropositato mi ammazzerebbe quasi tutti. Giusto Spawni se la tanca perché è abbastanza bulky e perché il suo tipo acqua gli permette di reggerla. Lido con Mallow anche qui perché comunque è molto buono a prescindere contro i suoi pokemon. Mien Shao usa Danza Spada che può sembrare davvero spaventosa perché purtroppo con assorbibacio non l'ho shotto ma calcio in volo nonostante mi faccia malissimo non mi avrebbe mai ucciso e con un altro colpo lo levo di mezzo. Ora entra Hunch Crow dato che ha l'acciaio ma io sono più veloce con assorbibacio recupero tutta la vita e quindi pure qui non rischio nulla. In generale Mallow mi sta piacendo un sacco non me lo sarei mai aspettato ma mi sono davvero divertito ad usarlo e poi è molto più veloce di quel che sembra dato il suo essere un bignè. Contro Pyror però ce ne andiamo perché è il turno di Corinne che lo walla completamente. Come mosse a fuocobomba nero pulsare gran voce quindi le reggiamo tutte. Arrivati a questo punto io potevo ucciderlo ma volevo mettere il riflesso per Geridos è solo che mi sono fatto male i conti e il prossimo fuocobomba mi può tranquillamente ammazzare. Più che altro ho preso molti più danni di quel che pensavo. Ecco Carbink è invece un pokemon che non mi sta convincendo invece perché boh ogni volta penso che tanki più di quello che realmente fa. Il problema è la vita che è veramente bassa perché ok tu dai 150 nelle difese ma se poi il pokemon non ha ps è tutto un cavolo. C'è da dire che forse gli sto chiedendo troppo eh pretendevo che tankasse quattro fuocobombe di Pyror forse era un po' too much. Comunque devo rifare tutto da capo quindi ho mandato Livi a reggere le ultime fuocobombe che gli erano rimaste e ora che ha finito i pp uso fortuncanto e desiderio. Posso tornare con Corinne avrei retto senza problemi sia neuro pulsar che gran voce e il desiderio mi riporta full vita. Adesso sono a posto. Lui continua ad attaccarmi ma non mi fa nulla. Io rimetto riflesso e poi finalmente uso gemmo forza per farlo fuori. Rimane solo Geridos. Sta per arrivare metal testato ovviamente e perciò me ne vado per mandare spawni. Lui mega evolve in un gigantesco gamberetto e il danno che fa è davvero ridicolo. Non penso di aver preso precauzioni esagerate. Come vedete con terremoto mi fa molto di più. Senza riflesso mi avrebbe fatto il doppio. Avrei rischiato dei crit. Non volevo rischiare invece. E con questo concludiamo la battaglia e ci liberiamo del team flare una volta per tutte. Adesso posso riprendere ad esplorare la regione e raggiungere l'ultima palestra. Durante il tragitto però vengo interrotto da tutti gli altri rivali che fino ad adesso non avevano mai dato fastidio ma che ora invece vogliono tutti lottare. Quindi niente. Tocca affrontarli tutti in questa location molto scenografica devo dire su un ponte sospeso al tramonto. Di solito non parlo di queste battaglie perché sono semplici ma stavolta invece ci sono stati un po' di problemi. La prima è Shana che inizia con un Delchetti ma a me preoccupava il Gudra che tiene dietro perché ha fango onda. Con spawni fallisco la prima drondata e al secondo turno Delchetti mi critta con carineria e mi droppa l'attacco. E te pareva. Adesso non l'ammazzo e si attiva incantevole. Pure. Non voglio stare qui ad impazzire cercando in vano di colpirla quindi entro con tinto. Uso tuono onda solo ed esclusivamente per renderla più lenta di spawni e poi torno con lui. Sul mio switch in lei fa ancora carineria e di nuovo mi droppa l'attacco. Vabbè ok Shana ho capito. Io volevo trovarmi con spawni per quando entrava Gudra così da seccarlo subito con carineria ma quanto sembra è impossibile non essere nerfati e quindi mando Olivia. Casso come sempre forto un canto e desiderio. Ci manca solo che Gudra mi critti con fango onda e poi elimino Delchetti. Poi qua non ho pensato al fatto che Gudra vedendo l'immensa difesa speciale di Olivia avrebbe preferito usare terremoto. Ho fatto tutto sto setup un po' inutilmente ma mi ha fatto ridere comunque che un Delchetti stava mandando in fumo tutto quello che stavo facendo. Greninja per fortuna viene shottato e così Shana è sconfitta. Dopo di lei arrivano anche Tierno e Trovato e il primo a farsi sotto è Tierno. I miei pokémon non sono stati curati quindi qua avendo paura di acrobazia cambio per rientrare con Corinna. Quel danza spada non lo porterà da nessuna parte e un gemmo forza invece lo abbatte immediatamente. Entra Rotheraid, esco per mandare Tinto che è l'unico mio pokémon a reggere le mosse erba e onestamente pensavo la reggesse meglio. Qua devo rischiarmi un brutto colpo. Mandare uno degli altri è impossibile. Rotheraid fa danni esagerati e perciò sono rimasto in campo a paralizzarla con Tuono Honda. Per fortuna va tutto liscio ma di sicuro Tinto non può fare nulla con le mosse che ha. Un po' titubante decido di entrare con Olivia già danneggiata dalla battaglia di prima che per fortuna entra su Rotheraid che resta paralizzato. Uff meno male e resta pure confuso. Qua lancia subito desiderio e lei si colpisce da sola. Ok abbiamo sculato. Metto fortuncanto che mi fa sentire al sicuro. Qua riesce ad attaccare e vedete che danni? Capite perché mi stavo cagando sotto? Se prima non fosse rimasta paralizzata e confusa rischiavamo davvero di morirci. Meno male che sono a coccidere Rosary da furia di forze lunari non molto efficaci. Veramente una brutta scena da guardare ma alla fine va giù il suo ultimo è Crowdant che soffre le mosse folletto e quindi GG. Abbiamo sconfitto anche Tierno. Resta solo trovato? Lui ha avuto la decenza di curarmi Pokémon almeno però non mi ha comunque fatto cambiare l'ordine e quindi mi ritrovo con Spawni davanti a Raichu. Retirata. Mando Olivia a prendersi Fulmine e poi inizio ad attaccarlo. Lui si mette ad usare schianto che è una mossa terribile col 75% di precisione. Però lui li ritta tutti quindi che gli frega e a momenti mi ammazza. Ho fatto in tempo a lanciare un desiderio così che sul mio ultimo forza lunare mi curo quasi completamente e sono pronto per affrontare il suo Florge. Scontro di forze lunari praticamente dove lei però critta. Oh per una volta che non ho messo il Fortoncanto o niente. Sculo anche io e le droppo l'attacco speciale mentre lei casta il campo nebbioso. Qui in previsione anche dell'aerodactyl che ha dietro mando Corinne. Lei prova ad usare confidenza ma corpo chiaro le impedisce di dropparmi le stats. Vado di Vortex Palla e... Boh. Io sto Pokémon non lo capisco. Dite che sto chiedendo troppo? È troppo pretendere che un Vortex Palla fatta da un Pokémon lento come Carbink mi ammazzi un Florge con 50 PS? Non lo so. Di sicuro sta mossa gliela levo, non m'ha convinto. Meno male che almeno Corinne mi fa fuori velocemente Aerodactyl nonostante il super suono e finiamo così anche l'ultima lotta contro i rivali. Dopo tante fatiche siamo giunti finalmente a Frattalopoli, sede dell'ultima palestra. Prima di affrontare Edel però facciamo un salto a sud della città nel Bosco Passo Perso perché qui c'è l'ultima cattura del gioco, ovvero un Jigglypuff. L'ho subito evoluto con una pietra lunare e l'ho chiamato Luba. La natura è ok, è già lento di base quindi non mi importa che sia ancora più lento, però pure la difesa non è un gran K quindi il boost è relativo. Lui è il contrario di Corinne, difese basse e PS altissimi quindi il risultato non penso sia molto diverso. Andiamo adesso a conquistarci l'ultima medaglia e sfidiamo Edel e i suoi Pokémon ghiaccio. Inizia con Abomasnow e io ho deciso subito di mettere alla prova l'ultimo arrivato. È lento lo sappiamo e quindi attacca dopo però ha un movepool veramente gigantesco, impara di tutto e in questo caso gli ha insegnato Lanciafiamme che incenerisce all'istante Abomasnow. Adesso però è il turno di Cryovonal che ha un'alta difesa speciale e una pessima difesa fisica. Switcho con Spawni, purtroppo mi prendono sordilaggio ma sono comunque rimasto in campo perché non mi fa davvero nulla di che. Poi fortunatamente riesco ad attaccare e quindi distruggo in un colpo quel fiocco di neve. Resta Avalug. Lui è il contrario, fortissimo in difesa e pessimo in difesa speciale. Spawni non gli fa nulla e mando Tinto che è l'unico mio Pokémon con un attacco speciale super efficace. Lui fa maledizione. A questo punto uso Crystal Colpo, purtroppo non va giù, lui va di Slavina, mi scritta e mi ammazza. Ma dai, ma cos'è sto danno? Ma io davvero dovevo aspettarmi una cosa del genere? Questo è il danno che un Avalug al 59 fa con Slavina ad un Klefka al 59. Consideriamo adesso che Slavina raddoppia di potenza perché ha l'attaccato per secondo. Sure. Ed esce questo. Ora consideriamo il più uno in attacco che ha preso con maledizione. Il brutto colpo. E ancora non mi ammazza. Va considerato anche che Tinto aveva la natura che gli abbassava la difesa. Eppure qui ha solo il 31% di chance di uccidermi. 31% che ovviamente ha preso. Io ovviamente non ho calcolato niente per sta battaglia. Queste sono tutte cose che ho controllato dopo. Ma mai nella vita mi aspettavo di poter morire da Slavina. Pure qua si sono un po' allineati i pianeti. Tutto quello che poteva andare male è andato male. Vabbè, grazie Edel. La medaglia ci ha costata tinto e adesso ci tocca Falalega con 5 Pokémon. Prima c'è come sempre l'ultima battaglia contro Serena ma ho imparato dal mio precedente errore. Elimino Meowstic spammando Palla Ombra con Luba ed entra subito Delphox. Qua invece di mandare subito Spawn in campo mando Olivia invece che regge tranquillamente i suoi psichici e lancia fiamme per mettere Fortune Canto e Desiderio. Ora sì che posso mandare Spawn, così pure se mi droppasse la difesa speciale sarei comunque a full vita grazie a Desiderio. Lui mi ospida ma non può chillarmi e io invece sì con Cascata. Muori Delphox, grazie. Jolton invece l'ho fatto gestire di nuovo ad Olivia ora che non c'è Squitty. Ci ho messo tantissimo perché lui spamma Scarica e io devo continuamente usare Fortune Canto e Desiderio perché comunque fa un sacco di danni e giustamente a una certa trova pure la paralisi. Olivia però se ne è fregata della paralisi e alla fine mi sono messo nella condizione di poter attaccare con due forze lunari ed è andato giù. I suoi ultimi Pokémon sono Altaria ed Absol, deboli al Folletto, non hanno dato problemi e quindi GG. Abbiamo finito pure con Serena. Siamo finalmente alla Lega Pokémon. È la prima volta che ci arrivo di notte ed è bellissima. Forse la più bella in assoluto. Qua c'è poco da ragionare. Ho 5 Pokémon. Non ha nulla da scegliere. Possiamo pure entrare subito. Iniziamo da Lilia, il Super 4 Drago contro la quale abbiamo ovviamente un ottimo matchup. Il problema qui è solamente uno ed è proprio il suo primo Pokémon, Dragalge, che ha una fangobomba poco simpatica. Ho deciso di gestirlo con Luba a cui ho dato una bacca kebbia. Dragalge è lentissimo ma Luba con la sua natura è pure peggio quindi attaccherà per ultimo. La tattica è usare inibitore al turno 1 dando per scontato che Lilia usi fangobomba così da disabilitarglila per 4 turni. E in quei 4 turni lo devo ammazzà. Parte la sfida e lei si comporta effettivamente come previsto, con la bacca di mezzo il danno, ma a quanto pare serviva pure una bacca pesca. Peccato che se ne possa dare solo una. Qui se non mi avvelenava sarei rimasto volentieri a fare un geloraggio e invece così ho troppa poca vita e me ne devo per forza andare. Quando si tratta di reggere attacchi speciali la risposta è sempre Olivia. Forza Lunare è il meglio che ho per colpirlo e qua il secondo fulmine mi paralizza. Sta sculando un po' troppo non trovate? Continuiamo a menarci e purtroppo la mando il range di ricarica totale e questo significa che i famosi 4 turni non basteranno. Ma stavolta sono io ad effettuare lo sculo e le droppo l'attacco speciale. Se gode. L'effetto di inibitore è terminato e infatti adesso parte lo spam di fangobomba. Mi riprendo un po' con la bacca cedro e poi uso desiderio. Olivia è incredibile perché la paralisi è come se non ce l'avesse e riesce ad usare pure fortune canto che ormai è diventata la mia mossa preferita della run. Assolutamente. Ora succede nuovamente qualcosa di abbastanza improbabile perché giustamente Olivia inizia a rimanere paralizzata due volte di fila. Ci sta. Ma ora che attacco forza Lunare critta e quindi compensiamo così i turni persi. È il karma regà. Altaria è un bot. Mando Mallo a pensarci che entra subito su un forza Lunare che gli droppa l'attacco speciale. In realtà ragazzi voi non lo sapete ma tutti i pokemon di lì li hanno le già gioco come abilità. I miei invece hanno tutti super sorte evidentemente. Ma che sto a vedere. Questa poi è idiota e usa canto su uno slurpuff e con un magibrillio finale ci muore. Che circo. Neuvern mi dimezza la vita con super zanna ma io vedete che con bacca più assorbibacio ho un sacco di sustain. Ora mi tanco e terelama e con magibrillio lo mando al rosso. Seconda ricarica totale. Continuo a curarmi con assorbibacio e Neuvern semplicemente non riesce a farmi abbastanza danni e quindi ci saluta così anche lui. Dradigon è completamente wallato da Corrin che invece con due colpi lo fa fuori e quindi GG. Più clown fiesta di quel che pensavo sta battaglia ma è andata bene. Passiamo a Narciso adesso. Ho riciclato la tattica di prima. Guardate il suo primo pokemon. Cloitzer. Ha tre mosse che resisto e idropulsar. Basta fare inibitore su quella. Start di luba anche in questo caso quindi. A cui però ho dato la bacca chi con idropulsar non si fa mai. Poi una volta che lui non ha quella mossa entro abbastanza tranquillamente con mallo e grazie alla bilcintura swippo tutto il suo team. Andiamo a sfidarlo dunque. Cloitzer fa dei danni enormi. Considerate che ha mega lancio quindi tutte le sue mosse sono boostate. Con inibitore gli faccio fuori idropulsar e ora via libera con mallo. Fulmine non basta e quindi pure qui spam di ricariche totali. Perdiamo un po' di tempo ma alla fine a furia di fulmine ce lo portiamo a casa. Ora Narciso ha mandato Geridos e Barbaracol che sono proprio i pokemon contro i quali ho una per 4. Mi dispiace. Ero sicuro eh. Narciso tende quasi sempre a mandare starmi per ultimo per qualche motivo. Qua però ovviamente me ne vado perché non lo shoterei. Entro con Olivia eppure se mo mi fa schermo luce i suoi danni sono davvero bassi e io invece con 3 energy palla lo sconfiggo. Bella. Questa è stata anche più facile. Teniamoci il cavaliere metallico per ultimo va e andiamo da Malva. Qua il protagonista sarà ovviamente Spony che però ha bisogno di un piccolo aiuto per shottare i pokemon avversari e per questo io ho insegnato pioggia danza. Malva inizia con Pyror e anche se ha sprizzalampo non è un problema perché si autonerfa avendo antagonismo che le fa fare meno danni ai pokemon del sesso opposto. Poi non so perché ma fa lanciafiamme invece. Meglio così. E io metto la pioggia. Insiste con lanciafiamme inutilmente e adesso con cascata la kill in un solo colpo. Non mi aspettavo entrasse Talonflame adesso. Pensavo Torqual ma non fa niente. Baldiali fa un sacco male ma riprende un po' di PS con la bacca cedro e cascata fa fuori anche lei. Però ma fregato. Mi sono preso corpo di fuoco. Ecco perché l'ha mandato. Era tutta una tattica. Malva lo sapeva. Adesso che sono bruciato non killo più Torqual ma decido comunque di fare cascata. Lui maledizione. Mo che ha più uno ho paura di lasciarlo al rosso e quindi cambio con Corinna. E con gemmo forza lo finisco. Il suo ultimo è Chandelure. Arriva a Stordiraggio ma avevo la Baccachi e riesco a mettere lo schermo luce. Fa la ombra così mi fa il solletico e con gemmo forza quasi lo ammazzo. Poi ritenta con Stordiraggio. Al primo turno mi do una pizza in faccia ma tanto avevo ancora tantissimo margine per tankare i suoi colpi e al turno seguente parte gemmo forza che mette fine anche a questa battaglia. Resta solamente quello che non volevo affrontare. Timaeus e i suoi pokemon acciaio. L'unico pokemon che regge le mosse acciaio è Spawni ma di certo non può tankarsi i colpi di tutti e quattro. Poi c'è anche il problema che appena fatto fuori Clef che sicuramente entra a Probopass per farmi scarica e ha vigore quindi non lo posso one shotare. Una scarica me la posso pure tenere ma poi se mi entra Aegislash in forma scudo non lo uccido mai e poi a lui basterebbe un attacco per farmi fuori. Ho quindi dato lanciafiamme a Mallow e Luba per gestire Scisor e Aegislash. Il problema è che Luba è più lento di entrambi quindi riceverebbe una metal testata in faccia. Mallow è più veloce ma lanciafiamme non basta nemmeno per eliminare Aegislash in forma spada addirittura. Io ho sempre la sindrome del non voler sacrificare nessuno e quindi ho elaborato un piano un po' contorto che però ha scarse chance di funzionare. Il team è questo. Spawni ha baccaliegia per evitare di essere paralizzato da scarica. Olivia pure e ha il desiderio e protezione per stallare Probopass. Mo vedrete. Corinne ha giorno di sole perché se riesco a metterlo poi Mallow riuscirebbe a shottare Aegislash. Pure lui baccaliegia sempre perché una paralisi da parte di Probopass rovinerebbe tutto e poi Mallow con la bacca Vabiri così almeno una mossa se la tanca e idem per Luba che ha pure una fuocobomba di emergenza nel caso servisse. Preghiamo qualcuno e andiamo a sfidare l'ultimo Super 4. Lui inizia con Glefki e io con Spawni. Mette un fastidioso layer di punte e io lo smezzo con Battiterra. Al turno seguente va di attaccalite e con un altro Battiterra lo faccio fuori. Come previsto entra Probopass. Breccia lo manda al rosso. Mi prendo scarica e ora gli faccio sprecare tutte le ricariche totali. Avere attaccalite addosso non è un problema perché lo mando in range sia con Breccia che con Battiterra. Adesso invece di dargli il colpo di Grazia cambio e mando Olivia. Qua fortuna che le ho dato la bacca a Liegia. Se rimanevo paralizzato era una catastrofe. Qui il piano è fargli finire tutti i 10 EPP di Cannon Flash spammando desiderio e protezione. Non mi piace di solito fare sta cosa perché è noiosissimo e poi si rischiano sempre dei crit ma con Fortuncanto ragazzi è tutta un'altra cosa. No davvero miglior mossa di sempre. Ti fa sentire troppo al sicuro. D'ora in poi la userò sempre quando avrò qualcuno che la può imparare. Che poi la imparano proprio 4 pokémon in croce. Infatti non avevo mai avuto modo di vederla prima. Fatto sta che con questo sistema Propopas ha esaurito tutti i Cannon Flash. Ora inizierà ad usare mosse a caso e io rimetto Fortuncanto per l'ultima volta. Cambio in Corrin e purtroppo tra tutte le mosse decide proprio di farmi Geoforza sullo Switch In che è l'unica super efficace. Faccio assolutamente in tempo a mettere il riflesso per i pokémon dopo ma volevo mettere anche il sole e così invece non posso proprio. Peccato. Non posso perdere altro tempo ho i turni contati sia di Fortuncanto che di riflesso e mando Mallow a far fuori Propopas. Entra Shizor. Ok su di lui l'assenza del sole non è un problema. Usa pugno scarica ma sono protetto dal riflesso, dalla bacca e non può manco crittare e ora con lanciafiamme lo shotto. Senza questa roba pugno scarica mi disintegrava eh. Mo però c'è ed è un bel problema. Mi sono già rassegnato a sacrificare Mallow. È l'unica. Lanciafiamme non basta. Cerco comunque di baitarlo con protezione per fargli cambiare forma e quindi fargli più danni dopo ma lui era andato di scudo reale e rimane nella forma chiusa. Eh vabbè. Unlucky. Facciamo quello che possiamo e moriamo da eroi. Perlomeno il danno è sufficiente per dare modo a Spawny di finirlo e portare a casa la battaglia. Siamo rimasti in quattro ma questa era la sfida più difficile. Dianza è più facile e con i Pokémon che mi sono rimasti è vincibilissima. Raccogliamo le ultime energie ed andiamo a conquistarci il titolo di campione. La campionessa schiera in campo a Ulucia mentre io Corinne. Lei fa danza a spada e io inizio mettendo riflesso. Non c'è nulla di cui preoccuparsi perché poi i danni che mette sono questi. Cioè volendo potrebbe pure grittarmi non cambierebbe molto. Parte la prima ricarica totale io insisto con Forza Lunare schiacciatuffo è sempre un meme e con l'ultimo colpo lo butto giù. Dianza ora manda Tyrantrum e ogni volta sono riuscito a non fare usare Zuccata sto coso. Stavolta non posso evitarla. Uso Forza Lunare parte la Zuccata e Corinne se la tiene. Oh finalmente una soddisfazione. Serviva un Pokémon con 150 di difesa per regge sta mossa. C'è da dire che c'è anche il riflesso eh ma va bene sono contentissimo. Su Woodra entro con Olivia per prendere Fanghiglia. Uso Forza Lunare brutto colpo. Non è che sia cambiato qualcosa eh le ho fatto giusto sprecare una ricarica totale perché adesso con altre due lune in faccia Woodra va KO a prescindere. Contro Aurorus vado ancora di Forza Lunare ma i danni sono molto più bassi e ora lui ha messo lo schermo. Allora uso la mia tattica preferita. Fortune canto più desideri nel mentre che lui missa Bora. E ho fatto questo perché voglio mandare Spawni ma oltre a Bora lui ha pure tuono quindi volevo evitare un crit di quello. Poi qua missa Bora di nuovo. Eh te sta bene sei così una mossa del genere che te devo di. Ora con Breccia spacco schermo luce e spacco anche lui. Tocca Gurgas e per lei mando Lubba essendo di tipo normale. Qui mi fa Halloween che è una mossa che aggiunge il tipo spettro al bersaglio ed è utile perché poi lei può usare spettro tuffo in modo super efficace. Però con me non funziona perché sono ancora di tipo normale. Attualmente ho tre tipi normale, folletto e spettro quindi le mosse spettro mi fanno comunque zero e infatti va di semibomba. Io di palla ombra ed esplode. pensavo addirittura reggesse però meglio così. Rimane solo Gardevoir e questo è proprio il boss finale. Fa dei danni senza senso e cambiare pokemon è rischioso e basta oltre che inutile. Ho provato a fare tuono onda ma lei mi ammazza in un colpo. Entro con Spawni per rallentarla con battiterra dato che cascata non basta. Ha anche preso un brutto colpo che ha semplificato le cose ma purtroppo il meno uno non l'ha resa più lenta di me e quindi anche qui dobbiamo sacrificarci per il bene della squadra e della run. Mi stavo un po' spaventando arrivato a questo punto ma dovrebbe essere tutto a posto. Senza il crit di prima ora avrei utilizzato riposo con bacca prugna ma ora invece Olivia è sicuramente più veloce. Forza lunare basta per finirla e con questo abbiamo concluso la battaglia e la run. È stata lunga e piena di imprevisti. Me l'aspettavo un po' più tranquilla saranno se devo essere sincero ma sicuramente il fatto che mi sono rifiutato di prendere Gardevoir e Sylveon che sono senza ombra di dubbio e pokemon più forti di una monotype folletto ha complicato abbastanza le cose. Ciò non toglie che questa è stata la run con le morti più stupide e insensate di sempre partendo dal Wobbuffet criminale passando per pokemon central wiki che mi trolla e finendo con una slavina assolutamente anomala che ancora mi cringia se ci ripenso ma diciamo che tutte ste cose hanno reso il tutto più interessante. Detto questo grazie per essere arrivati fin qui spero che la run vi sia piaciuta con la prossima challenge torniamo a Unima e quindi ci vediamo al prossimo video